Ciao a tutti, lui è Gerold e lei è Opheli! E oggi è Pasqua, vi auguriamo buona Pasqua. Oggi nostra madre ci ha nascosto qualche cioccolatino in giro per il giardino e noi andremo a cercarli e metterli in questo cestino. Andiamo! Mi sa di aver visto qualcosa lì. Ho provato. Vieni? Poi vi faremo vedere cosa abbiamo trovato. Secondo me da dietro? No. Andiamo da quell'altra parte adesso. Io vado qui. No. Non c'è l'altro. Alla c'è l'altro. Un'altra cassa. Questo è un buonissimo. Vai Ovechi 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 Joy Joy Ma ci sono delle cose A pietnose Però non ne andiamo a andare Cosa No, non si è carullo No, non si è carullo Ah, e non ne andiamo a lezione Le hai fatto tutte le tifude Ovechi, mamma Questa è il riboccio Sì Mamma, è il riboccio Potevamo muovere solo da qua! Andiamo di... Senta? Oh mamma mia smesso! Io non so dove mettere più erbe quanta erba, cioè... Ho trovato una cosa! Non l'abbiamo visti! Sono questi! Sono questi! Mamma mia! Stavo iniziando a capire il cestino! Per quanto è pieno! Qui c'è la nostra stampa! Adesso andiamo a controllare... Qui c'è qui! Perché... Penso che... Non ci sia qualcosa! Sì! Ma come li prendiamo? Ci sono gli orsetti romosi! Come li prendiamo? Io non mi voglio pungere! Ma... Abbassa, abbassa! Allora... Dentro... L'albero... Dentro... È un coniglio che va all'assorto al naturale! Raga! Ecco! Tutti i miei! No! Ehi! Dammi un orsetto! No! Ok! Uh! Sono sicuro che sono queste stampa! Sono finiti? Vero? No! Adesso vi faremo vedere cosa abbiamo trovato! Adesso vi faremo vedere cosa abbiamo trovato! Cominciamo dai testi! Abbiamo trovato cosa? Abbiamo trovato gli orsetti come voglia alla frutta! All'arancia! Alla fragola! Al limone! Al limone! Al dilli! E altre che... Al regni! Al regni! Al regni! N trenso! Um! Che è leveling! Che è fatico! Al Monglio. 呢? In inglese! con le noci. Io vorrei quello all'olto cioccolato, amende, poi c'è un blender. Andiamo ad aprirlo? No, alla fine, alla fine. Poi abbiamo provato delle caramelle al gusto di fusta. E poi il Reeses, che questo fanno molta pubblicità, che c'è anche quello di Pasqua, perché io guardo ogni volta delle cose e c'è la pubblicità Reeses Quas Pasqua. Ecco che c'è il papà, che ci spiava. Poi i sneakers, che sono con i pappetti, è stato un po' tipo, un cioccolatino, non la barretta. Snickers, minis. Adesso noi siamo del finger. Mi hanno avuto se resiste. Adesso ho il Kinder Joy. Andiamo a capire Kinder Joy. A che volo mettiamo da parte? Qui c'è il Kinder. No. Qui c'è il Kinder. E qui la cioccolata. A me è una macchina, tuoi? Anche a me. Solo di questo colore. A me è di questo. Sono gli stessi, però, di colori. Vediamo come si costruisce. Uh, che bello, ci sono anche gli stickers. Abbiamo finito di costruire le nostre macchine. Il mio è un camion. E il mio è una macchina che si può fare cosa? Perché alle istruzioni me l'ha detto che può fare così. Io ho scritto Snickers qua. Un po' di pezzettini perché sopra c'erano scritte etere. Adesso avevano già mangiato l'altra. Adesso andremo a provare a mangiare gli altri. a mangiare gli altri. Prendiamo questo. È attaccato proprio. Non mangi tu? No. Voglio costruire. Tipo una carta. Ha lo stesso sapore degli Snickers. Non va più dolce. Prova, 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 prova. Ti piace? Sì. Adesso... Allora... Ok, pensiamo che oggi può bastare Adesso noi andiamo a lavarci i denti Perché abbiamo mangiato troppi dolci E ci vediamo in un altro video Ciao Ciao